Aiutare gli studenti meritevoli e bisognosi ad intraprendere gli studi universitari. Giunge alla seconda edizione l'iniziativa della Fondazione Giuseppe Tatarella dedicata alla consegna di alcune borse di studio con lo scopo di sostenere i giovani che desiderano intraprendere percorsi universitari ma non hanno la possibilità economica di farlo. Questa mattina la provincia di Bari è stato presentato il regolamento per partecipare all'assegnazione, nello specifico, di cinque borse di studio messe in palio per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie superiori statali e parificate delle province di Bari e Bat. Abbiamo deciso di istituire per il secondo anno consecutivo le cinque borse di studio dedicate a Pionuccio Tatarella da parte della Fondazione Tatarella in collaborazione con diversi enti come l'università, la LUM, il patrocinio della regione, del comune di Bari, delle province di Bari e Bat e diversi enti e associazioni per premiare quelli che sono degli studenti meritevoli. Tra le finalità della Fondazione Tatarella vi è quella della solidarietà per cui è importante consentire a degli studenti meritevoli che abbiano anche alcune difficoltà la possibilità di iscriversi all'università e continuare il loro percorso di studio. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia, delle amministrazioni provinciali Bari e Bat, del comune di Bari, delle università Aldo Moro, Politecnico e l'UM Jean Monnet, dell'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, dell'Ordine dei giornalisti, Asso Stampa di Puglia, Associazione Porta d'Oriente, Accademia di Belle Arti di Bari e Conservatorio Piccini. Ogni borsa di studio ha un valore di 1200 euro, rappresentativo del costo medio di un'annualità di iscrizione al primo anno di una facoltà universitaria. Le domande dovranno essere spedite o consegnate alla Segreteria della Fondazione in via Piccini 97, dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì, o spedite all'indirizzo di posta elettronica fondazione tatarella giuseppe chiocciola gmail.com, indicando nell'oggetto il nome e il cognome del candidato. Per concorrere alla segnazione delle borse, i candidati dovranno presentare un elaborato della lunghezza di almeno 9.000 battute, spazi inclusi, pari a 5 cartelle, su un argomento scelto dal Consiglio di amministrazione che verrà reso noto il prossimo 1 dicembre.